L'emergenza rifiuti in Puglia è finita, parola del governatore Nichi Vendola che commenta così il nuovo piano dei rifiuti approvato ieri sera dal Consiglio regionale. L'ok è arrivato col voto contrario del centrodestra e senza modifiche. Non sono stati stralciati come ci si aspettava e come chiedevano a gran voce i manifestanti arrivati ieri da Conversano, Mola di Bari e Polignano, sotto la sede del Consiglio regionale in via Capruzzi, gli impianti di Contrada Martucci a Conversano e quello di Grottelline a Spinazzola. Il territorio regionale resta suddiviso in sei Ato, autorità di ambito ottimale, una per ciascuna provincia. Sfumata dunque l'ipotesi di costituire un'unica autorità regionale. L'emendamento è stato ritirato dietro richiesta dello stesso Vendola, se ne riparlerà in una commissione ad hoc che deciderà, entro sei mesi, di concerto con le associazioni ambientaliste. Il piano licenziato ieri sarà presto online. Chiediamo ai cittadini di leggerlo per darci dei suggerimenti, ha dichiarato Vendola. Entro il 2015 il piano si impegna a riciclare e recuperare almeno il 70% dei rifiuti prodotti in Puglia, ovvero 2.151.000 tonnellate. E i primi a doversi mettere in riga sono i comuni, che dovranno fare in modo di differenziare almeno il 65% della spazzatura. Nelle discariche, prevede il piano, non dovrà arrivare più del 5% del totale. Ad oggi, invece, accolgono quasi il 70% dell'immondizia indifferenziata. Mission Impossible?